Benvenuti nel mondo degli orologi Tonino Lamborghini. Tonino Lamborghini è un marchio di orologi di lusso che rappresenta l'essenza del lusso e dell'eccellenza. Fondata nel 1981 da Tonino Lamborghini, la società ha creato un'ampia gamma di orologi di alta qualità che combinano il design unico e innovativo con la precisione svizzera. Ogni orologio è unico, caratterizzato da uno stile audace e distintivo che richiama le linee e le forme delle auto Lamborghini. Gli orologi Tonino Lamborghini sono realizzati con materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, il titanio e il PVD, e dotati di movimenti svizzeri di alta precisione. La collezione Spider nasce come omaggio allo scudo che racchiude il famoso toro che carica nell'iconico logo del marchio. La collezione GT1, invece, è caratterizzata da un design raffinato, con un quadrante elegante e cinturini in pelle di alta qualità o acciaio. Inoltre, Tonino Lamborghini produce anche orologi da collezione esclusivi, come il Tonino Lamborghini Spider X Crono, un orologio sportivo dotato di funzionalità avanzate come cronografo, calendario e indicatore di riserva di carica. Questi orologi sono ideali per gli appassionati di orologi di lusso che cercano un orologio distintivo e performante. Gli orologi Tonino Lamborghini sono molto resistenti e affidabili, grazie alla loro costruzione in materiali di alta qualità e all'utilizzo di movimenti al quarzo svizzeri di alta precisione. Ogni orologio è stato progettato per durare nel tempo e per resistere all'usura quotidiana. Inoltre, grazie alla sua attenzione per i dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati, Tonino Lamborghini è diventato uno dei marchi di orologi di lusso più apprezzati al mondo.